Regione Toscana, il Consiglio regionale. Come abbiamo visto dalla grafica andiamo a vedere quelli che sono gli argomenti selezionati per voi nel nostro consueto appuntamento con i lavori di aula, in questo caso come sempre sentiremo sia i pareri della maggioranza che della opposizione consigliare. Sì, finalmente dopo tre settimane siamo riusciti a ritrovare il Presidente per concludere questa importantissima discussione sui destini dei fondi strutturali europei. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta, la cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e redistribuirla. E non si capisce come mai prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. Abbiamo una risoluzione importante, un momento di discussione per i prossimi sette anni, la certezza delle risorse comunitarie dei tre programmi di sviluppo della nostra Regione. È entrata nel vivo la programmazione del prossimo sette innate e come tale abbiamo chiesto maggiori interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture, della connettività, della rivoluzione dell'economia circolare e le opportunità sociali di tenuta del territorio, attività di formazione, alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto un grande investimento sull'opportunità per i giovani, per renderli partecipi del processo lavorativo, e le opportunità anche per le aree interne di trovare compensato quel gap enorme che c'è tra le aree urbane e il territorio periferico. Abbiamo sottolineato sette punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi sette anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula. Quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe, ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR, quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Ed è la conclusione di un dibattito che è iniziato nella seduta precedente, ma nel quale si danno anche indirizzi puntuali, a meno da parte del nostro gruppo, nei confronti del Presidente e della Giunta, per cercare di gestire e di spendere al meglio i fondi strutturali europei. Sono fonti che ammonteranno grosso modo a 2 miliardi e mezzo, ma soprattutto che si aggiungono a quelli del PNRR, che sapremo catturare, e ai fondi di sviluppo e coesione. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra regione, per migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile, e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre toscane, quella metropolitana che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fragilità, che hanno minori opportunità di servizi, che hanno minore opportunità di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori, per andare verso una Toscana che sia improntata ad uno sviluppo sostenibile, che sia improntata ad un'economia più ecologica, che sia improntata ad una maggiore digitalizzazione, quindi la presenza della banda larga in tutti i nostri territori, con quello che questo comporta per quanto riguarda la possibilità di telemedicina, quindi di equità di accesso alle cure, per quanto riguarda le esigenze delle imprese, dei singoli cittadini, per quanto riguarda la possibilità di studiare a distanza e quindi di affermare le pari opportunità, sia di genere fra uomo e donna, sia fra territori. Noi crediamo che per far questo occorra coordinare molto bene gli interventi che tra gli obiettivi delle seme missioni del PNRR e gli obiettivi dei fondi strutturali spesso si sovrappongono, quindi mettere le risorse nei punti giusti, facendo progetti giusti, cercando di coprire tutte le esigenze che i nostri territori e le nostre comunità hanno. Per quanto riguarda i fondi europei, chiaramente siamo di fronte a una sfida, come ho detto più volte, che è assolutamente importante e cruciale in questo momento storico. È chiaro che dobbiamo saper spendere le risorse bene, ma dobbiamo anche saperlo fare in sinergia tra i fondi strutturali e quelli del PNRR. Per noi in questo momento le priorità sono chiare, economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà. Ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra regione, governo, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento degli enti locali. In questo senso la cabina di regia, che finalmente è partita e che noi auspicavamo da tempo, da almeno sei mesi, sembra che prenda le mosse. Ci saranno degli incontri che coinvolgeranno non solo gli amministratori locali, ma anche le associazioni. E questo è sicuramente un dato positivo. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle risoluzioni che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano incentivi alle aziende che mirassero a effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi creare una sinergia tra nuove industrie che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenze di aree industriali dismesse. Ecco, su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Io credo che invece siano temi importanti sui quali auspico che il Consiglio regionale potrà ritornare. Noi dobbiamo mettere in condizioni... Sicuramente il PNRR costituisce una grande risorsa anche per la Regione Toscana e sarà importante, come è stato detto più volte, spenderla in tempi veloci, spenderla bene, ma soprattutto nello spenderla bene bisogna tenere ben presenti quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, che in questo documento secondo noi non sono sufficientemente precisati, così come non sono anche abbastanza precisi il cronoprogramma con cui si intende raggiungere quegli obiettivi. Quindi, al netto di questo aspetto metodologico che secondo noi deve essere introdotto all'interno di tutto il lavoro che deve essere fatto, un'attenzione particolare a quella che vi è stata ribattezzata il BES, la cabina di regia Benessere Italia che è stata varata dal Governo Conte e che prevede che non ci si basi soltanto sul PIL per valutare quanto siano efficaci delle misure che prendiamo, ma che sia valutato il benessere della popolazione che richiede l'analisi di molti altri parametri quali per esempio quelli relativi allo stile di vita e di salute, alle condizioni ambientali perché se vogliamo davvero che questi investimenti vadano per le prossime generazioni oltre che per quelle attuali e siano davvero un salto di qualità dal punto di vista esistenziale dobbiamo affidarci a nuovi paradigmi e abbandonare quelli del passato il PIL, l'economia è importante sì ma non è tutto la qualità della vita delle persone e dell'ambiente è al centro di quel nuovo umanesimo che questo nuovo progetto e anche il PNRR deve promuovere per tutta la Val di Chiana e non solo un apportamento importante che rimette al centro la lettura e il libro questa cultura che forse un po' sta sparendo con i social e con questa comunicazione sempre più veloce invece l'odore di un libro a me attira sempre quindi lo spazio che il Consiglio regionale dà a queste iniziative è proprio di condividere la promozione di uno strumento la lettura di una passione la lettura che deve anche attraverso i bambini attraverso queste iniziative tornare a essere molto di moda ci sarà anche lo scambio dei libri che mi sembra una bella iniziativa in questo momento di difficoltà ci sarà l'idea che anche attraverso la lettura come da sempre si può sognare si può andare da un'altra parte del mondo sia fisicamente sia con la testa che con la fantasia tante iniziative per rimettere al centro questa sana, buonissima abitudine che invece forse si sta un po' perdendo è il primo evento culturale che rifacciamo dopo questi due anni di emergenza siamo estremamente soddisfatti anche perché quest'anno è la seconda edizione che facciamo del Book Festival versione invernale e c'è un salto di qualità importante abbiamo due premi strega che vengono a Fogliano per la prima volta Edoardo Albinati e Daniele Mencarelli abbiamo il giornalista sportivo Bartoletti abbiamo Elisa Ruotolo, Chiara Moscardelli, Luca Bianchini tanti tanti personaggi importanti Serena Dandini quindi una parata di autori importanti che a Fogliano non vedevamo da un pezzo quindi siamo estremamente felici Ritengo che sia molto utile sia molto importante in questo momento in cui come dicevamo la comunicazione è così veloce che si sta un po' perdendo il gusto della lettura della scrittura anche tempi lenti della lettura secondo me è importante recuperarli in questo momento perché appunto con i social, i tiktok insomma questo tipo di comunicazione soprattutto dei ragazzi e io sono molto contenta di presentare scrittori importanti come Daniele Mencarelli come Elisa Ruotolo, Luca Bianchini e poi altri che saranno nel cartellone e che ci dividiamo insieme ad Andrea e ad altre persone insomma che dialogheranno con loro è un momento per ripartire per tornare a guardarci negli occhi per far battere i nostri cuori perché ci è mancata tanta la possibilità di andare a una presentazione di un libro ad un evento in teatro consentitemi di ringraziare la Presidente De Robertis Andrea Vignini, Anna Cherubini per aver voluto portare qui oggi insieme a Jacopo Franci la possibilità di raccontare la qualità l'eccellenza che nasce sui nostri territori un programma di altissimo livello un programma da vivere ogni giorno in maniera tale da cercare di ridare ancora sui nostri territori la speranza vera che si possa ripartire ponendo i cittadini la cultura al centro del dibattito che noi vogliamo portare avanti io ho sempre detto che questo luogo il Consiglio regionale è un luogo che deve dare voce a quei territori che hanno grande capacità di produzione culturale ma che non hanno la quantità di presenze come le grandi città della Toscana è stato interessante ed è stato in realtà molto facile abbiamo preso contatti con le case editrici molte delle quali avevamo già contatti precedentemente quindi è stato come un ritrovarsi fra vecchi amici soprattutto con i direttori editoriali di alcune grandi case editrici con alcuni scrittori che anche loro finalmente tornano a confrontarsi con il pubblico dal vivo che è una cosa che in genere agli scrittori di razza piace moltissimo e quindi per me è stato un percorso facile naturalmente poi ci sono stati i soliti incidenti classici persone che danno il nulla osta e poi lo ritirano ma insomma fa parte dell'organizzazione di qualsiasi evento penso che sia anzi delle cose che ho fatto una delle più semplici delle più facili anche delle più belle bene anche per oggi è tutto vi stiamo parlando dalla sala barile la bellissima sala barile della consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4 a Firenze consueta sede del consiglio regionale dove si è da poco conclusa l'assise del 26 ottobre 2021 grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata Regione Toscana il consiglio regionale